Buongiorno ragazzi, Toccando le Rebis, sono qui con voi e sto sfruttando proprio un minuto qua un minuto là proprio per comunicarvi due cose. Allora, l'ho già detto e lo sto facendo, su Patreon ho già messo qualche trucchetto per dimagrire. Ovviamente, diciamo, si tratta di piccoli ritocchi, non sono ritrovati scientifici o pozioni magiche. Tra l'altro, la maggior parte sono prodotti in commercio, testati e supportati a livello, quantomeno diciamo, europeo. La maggior parte di questi prodotti sono di derivazione, si può dire, germanica, perché come cultura sono molto più affini a loro piuttosto che a noi italiani, però sono di uso comune, per cui, diciamo, prodotti sicuri, testati e su cui ci sono studi e recensioni. E tra l'altro, diciamo, ha un costo contenuto. Questo, diciamo, come prodotti ci tengo perché sono prodotti naturali, quindi non sono farmaci, in senso di intruglio chimico, bensì, diciamo, di derivazione, se vogliamo, fitoterapica. L'azione è quella, ovviamente, di facilitare, diciamo, le ghiandole e quindi gli ormoni del nostro organismo, facilitare il funzionamento degli organi, quindi del nostro organismo. Quindi è un potenziamento di quella che è la nostra fisiologia, non è nulla di stravolgente. Ed è, diciamo, finalizzata. Quello di prodotti che ci interessano, ovviamente, saranno quelli finalizzati a migliorare il biota, da una parte, e, diciamo, il metabolismo accelerandole, favorendo quindi il dimagrimento, in ultima analisi, ma anche attraverso la processazione degli alimenti. Qualche chicca l'ho già messa, seguitemi su Patreon e, ripeto, diciamo, work in progress, ce ne saranno molti. Non sono, ovviamente, non abbiamo a disposizione una farmacia, però, diciamo, c'è una, o meglio, c'era, perché, diciamo, purtroppo, anche in questo settore, il marketing ha fatto dei danni. I prodotti che erano vecchissimi e che faceva il farmacista, vengono commercializzati sotto determinati nomi da case farmaceutiche, anche famose, che guardano i profitti, per cui, purtroppo, molti di questi sono scomparsi perché erano poco richiesti. Questa è la legge del mercato e non ci possiamo fare niente. Quindi, diciamo, andiamo a lavorare su quelle che ci sono. La disposizione, diciamo, come si può dire, l'availability, diciamo, quanti farmaci abbiamo a disposizione. Comunque, non sono, non ne abbiamo quattro, non ne abbiamo cinque, ne abbiamo sempre moltissimi. Certo, non è una farmacia, come potreste pensare di trovare, con prodotti. Però, quello che ci tengo a precisare è che non si tratta di, come si può dire, di intrugli. Non sono quelli pubblicizzati alla televisione che prendi la pillolina. Ieri me ne parlavano, non posso dirlo perché, ovviamente, sennò poi mi denunciano, ma mi hanno paventato un prodotto che avevo già sentito e mi ero anche andato a vedere. Ho perso la mattita. Mi ero andato un po' a vedere e non erano altro che proteine del latte idrolizzate. Infatti, l'ho detto a questa mia amica, l'ho detto, guarda, è un bidone totale. Proteine del latte idrolizzate con un po' di magnesio e te la fanno pagare 110 euro a sconfezione. Cioè, questi ci sono prodotti naturali, classici, diciamo, di derivazione, fitoterapia. Vanno bene per il naturopata, quindi vanno bene anche per noi che crediamo nel potenziamento naturale dell'organismo. Ripeto, seguitemi su Patreon, iscrivetemi e cominciamo a essere un bel gruppo. Faremo belle cose insieme. Ciao, buona giornata, Doc Andrea Rebiz.